Con il più giovane oggi in campo, ma è un giovane forte, doppietta in una partita così importante che regala la prima storica finale di Coppa Italia di Serie D al Follonica Gavorrano. Complimenti. Grazie innanzitutto, sono contentissimo e ci meritavamo una soddisfazione perché abbiamo luttato fino alla fine in 10 e il risultato è arrivato e complimenti a tutti e alla squadra. Complimenti ripeto a te stesso, alla squadra chiaramente, però una doppietta non è da tutti i giorni. Un Arduino che ormai è uno dei titolari fissi di questo Follonica Gavorrano, che propositi hai adesso? Innanzitutto pensiamo subito a domenica, a fare bene domenica, a chiudere bene un buon campionato e dopo proiettarci sui play-off per finire l'ambita finale di Coppa Italia. Intanto complimenti di nuovo e in bocca al lupo. Grazie, arrivederci.